Prosegue l'appuntamento con la grande Veronica Castro. Un tuffo nel passato che ci riporta all'indimenticabile Mariana che, con anche i ricchi piangono, inaugura una serie di successi senza precedenti. Ti amo come non ho mai amato nessuno. Anch'io ti amo. Il dramma di una madre che, caduta nella profonda disperazione, vive nella speranza di ritrovare suo figlio. Non sarò mai più felice. Mai più. Con Salvador Pineda, Umberto Zurita, Erika Buenfili, un teleromanzo toccante, reale, che coinvolge Veronica, i suoi figli Christian e Michael e la sorella Beatrice. Ti aiuterò in tutto, assolutamente in tutto, se tu vorrai andare via da qui. Mariana, il diritto di nascere.